Per onorare la memoria di Sebastiano Sata, poeta, pittore, avvocato, intellettuale a tutto tondo, l'amministrazione comunale di Nuoro, insieme ad altre istituzioni, ha promosso un ricco palinsesto di convegni e manifestazioni culturali e infine l'inaugurazione della casa natale del poeta, restaurata dal comune e restituita alla città. L'occasione è offerta dal centenario della morte di Sebastiano Sata, che cade il 29 novembre 2014. Il ricco programma di eventi è stato presentato stamattina nel corso della conferenza stampa, ospitata nella casa natale del poeta, che si affaccia sulla piazza omonima dedicata al poeta e progettata da Costantino Nivola. All'incontro sono intervenuti il sindaco Alessandro Bianchi, il vice sindaco Leonardo Moro, l'assessore alla cultura della provincia Gianfranca Logias, Ugo Collu, presidente del comitato scientifico, Priamo Sioto, presidente dell'ordine degli avvocati, Vanina Mulas, commissario della biblioteca Sata, Gavino Poddige, dell'associazione I segni delle radici, e Franco Nifoi, l'architetto che ha curato il restauro della casa Sata. Il sindaco ha ricordato il grande legame affettivo che lega Nuoro al poeta e le manifestazioni in programma saranno l'occasione per rinsaldarlo. Nei mesi scorsi sono state coinvolte le scuole superiori al fine di far conoscere Sata alle nuove generazioni, anche attraverso un concorso aperto agli studenti di tutta l'isola. Il convegno scientifico dà l'occasione agli studiosi sattiani di restituire al poeta il giusto ruolo nella letteratura italiana, dopo che alcuni giudizi trancianti lo avevano relegato ad una imitazione di Carducci. Importanti studi, invece, ne sottolineano l'originalità sia dell'ispirazione che della poetica e lo collocano a pieno diritto tra i grandi della letteratura italiana. Infine, Casa Sata, il cui restauro è stato ultimato mantenendo nell'anima e rispettando il genius loci, ospiterà i fondi storici della biblioteca, lasciati al consorzio dalle famiglie di altri grandi noresi.